Intitolare una piazza in onore di chi nel quotidiano si è battuto per i diritti degli ultimi, succede a Bari al quartiere Libertà e ad essere coinvolta l'ex senatrice Maria Celeste Nardini, nata a Bari nel 1942, è stata in Parlamento con rifondazione comunista dal 94 al 2006 ed è scomparsa nel 2020, appuntamento nell'area antistante all'oratorio dei Salesiani del Redentore. Ma non un ricordo, mille ricordi, 40 anni di ricordi, 40 anni di condivisione di un'idea della politica come lotta per l'eguaglianza, lotta per i diritti, come critica di un mondo feroce, quello che protegge la ricchezza di pochi a svantaggio dei tanti. E' una politica che mette al centro la dignità e i diritti di ogni singola persona, soprattutto degli ultimi, dei più fragili e Maria Celeste Nardini a Bari è stata una protagonista instancabile, appassionata, coerente, ostinata di questa battaglia per la dignità e per l'eguaglianza. E' una persona che ha vissuto nel quartiere Libertà e ha lasciato una traccia indelebile con la sua passione politica e con il suo impegno civile. Chiunque l'abbia conosciuta, l'ha riconosciuto, rigore morale, impegno, grande determinazione, serietà, idee e valori legati all'equità e alla giustizia sociale che hanno caratterizzato sia il suo impegno civile che la sua passione politica. Ha rivestito in carichi istituzionali straordinari e è rimasta sempre la stessa persona. Per tutti noi e anche per quelli come me che oggi fanno politica è un esempio da seguire. Grazie